Nel fine settimana l'afflusso di correnti forti e fredde di bora avrà termine sulla regione per cui il tempo sarà più stabile seppur con aria secca ancora a tutte le quote. Quindi per la giornata di sabato avremo cielo sereno su tutta la regione senza più la bora che ha soffiato in questi giorni sulla costa. Temperature minime intorno ai 5 gradi sotto zero in pianura dai meno 10 ai meno 15 in genere sulle valli alpine, zero gradi o poco sopra per quanto riguarda la costa. Massime intorno ai 9-10 gradi in pianura, 7-8 lungo la costa. Lo zero termico si porterà intorno ai 1000 metri. Per la giornata di domenica ancora bel tempo, cielo sereno, un po' di bora sulla costa ma sarà una bora moderata con raffiche intorno ai 50 km orari. Temperature minime di 2-3 gradi sotto lo zero in pianura, un paio di gradi positivi invece sulla costa, massime intorno ai 10 gradi su pianura e costa. Per lunedì cielo poco nuvoloso, qualche velatura in quota, con martedì torna un cielo sereno e torna anche una bora un po' più sostenuta però con raffiche che non andranno oltre gli 80 km a Trieste. Dall'Osservatorio Metodo Regionale dell'ARPA, un saluto da Marcellino Salvador.